Assalamu alaikum, pace a tutti voi, chiediamo scusa per il ritardo, ma queste sono il bello delle dirette, oggi avevamo problemi con l'audio, eccomi qui con voi, benvenuti in questa live speciale, siamo negli ultimi giorni della campagna Investi sul suo futuro, alhamdulillah, non so se tanti di voi hanno visto, ma alhamdulillah abbiamo raggiunto i 12.000 euro e quindi anche le altre tre donne, il rilancio che abbiamo fatto domenica scorsa è andato a buon fine, alhamdulillah, quindi saranno inshallah 10 donne che potranno beneficiare del progetto indipendentemente, comunque durerà ancora più o meno 30 ore fino a domani, la campagna se volete continuare a donare sempre sulla piattaforma e anche a beneficiare delle ricompense, potete farlo fino a domani, inshallah. Ecco che vedo dei commenti, io vi chiedo scusa perché oggi sono dal cellulare per problemi, sto cercando di leggere dal pc se riuscirò, così posso leggere anche le domande perché sono cieca, se no farò fatica a vedere tutte le domande, inshallah. Allora, bismillahirrahmanirrahim, nel nome di Dio il Clemente Misericordioso, oggi abbiamo come ospite l'imam, scusate, il dottor Mohamed Bahaeddin Griwati che nasce il 30 agosto 1951 nella città di Aleppo in Siria, è medico chirurgo specializzato in neuropsichiatria. Sin da piccolo mostra una forte determinazione negli studi che lo porta a trasferirsi in Italia e a descriversi all'Università degli Studi di Genova, dove nel 1974 consegue la laurea in medicina e chirurgia. Sceglie poi di intraprendere il percorso di specializzazione in neuropsichiatria presso l'Università di Parma. Durante la sua esperienza come medico di base a Bardinetto, Savona, entra a contatto con il professor Negro, fondatore della scuola italiana di medicina omeopatica Hannemagnana e presidente della fondazione. Affascinato dalla sua personalità e preparazione, inizia a seguirlo in un percorso di crescita professionale e ad affiancarlo alle visite mediche. Questa collaborazione segnerà in modo indelebile il percorso del dottor Bahaeddin che da quel momento, testimone della potenzialità della medicina omeopatica, studierà e applicherà intensamente. Il dottore intraprende la libera professione aprendo il suo primo ambulatorio alla Guieglia, in provincia di Savona, successivamente uno a Milano e uno a Roma. Spettatore della progressiva standardizzazione delle terapie e sostenitore di una visione clinico-medica dell'uomo come una persona umana unica, il cui quadro è dato dall'equilibrio mentale, spirituale, fisico, familiare e sociale. La medicina omeopatica vuole infatti agire non solo sul singolo organo malato, ma risanare l'organismo del suo insieme, spirito, mente e corpo. Da sempre il dottor Bahaeddin è convinto dell'importanza della condivisione delle conoscenze e delle esperienze. Tiene diverse conferenze allo scopo di offrire ai pazienti una consapevolezza terapeutica interattiva. E inshallah speriamo che anche stasera veramente questa live sarà utile. E do il benvenuto al dottor Bahaeddin. Benvenuto. Buonasera a tutti. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come stai dottor Bahaeddin? Sono sotto le tue disposizioni. di tutti noi, perché ti stanno seguendo da tutta Italia e tutti stavano aspettando questa diretta, molto importante. Non ti sento più, dottor Bahaeddin? Ecco, adesso ti sento. Come sai, stasera appunto, tanti vogliono sapere come possono, dopo che sono usciti da abusi, da violenze, tornare a vivere, avere una vita sana, perché tante sofferenze li hanno portato tante volte, alcuni mi hanno scritto, mi sento un morto vivente. Questa cosa è molto grave, quindi, inshallah, noi aspettiamo te. Ti arriveranno tante domande anche da casa. Io cercherò di leggere tutte, inshallah. Ti ringraziamo ancora, siamo tutti onorati di averti qui con noi, di averci dato il tuo tempo, perché sappiamo che tu lavori sette giorni su sette, inshallah. Wa alaikum salam, Anina. Ti salutano tutti da casa, da Modena, Lucrezia, c'è Stefano Trifiglio da Torino, Giuri da Bani, wa alaikum salam. Buonasera a tutti, assalamualaikum. Allora, non fateci caso, io do di tu al dottor Bahaed, perché lo conosco da quando ero, diciamo, bambina, non riesco a dare dell'enonema all'educazione, chiedo scusa, diretta. Allora, caro dottor Bahaed, Mohammed, come sa, le donne che arrivano al progetto Aisha, e so che hai visto nascere il progetto Aisha, e hai visto anche tante donne del progetto Aisha, spesso vengono da tanti abusi psicologici, emotivi, a volte anche fisici purtroppo. Tante mi chiedono, o si chiedono, perché sono arrivate fino a un certo punto a farsi maltrattare così, anche per anni, a volte anche per vent'anni, fino a che i figli ne sono usciti distrutti, insomma. O addirittura, se arrivate, che dopo vent'anni di un matrimonio, quando parliamo di violenza, intendiamo tutte, fisica, psicologica, economica, arriva a maltrattare anche la mamma, perché è cresciuto, o cresciuti in un certo ambiente, e spesso si dice, ma perché non si tolgono subito da quella situazione di pericolo? Cos'è che le blocca? Che cosa succede psicologicamente? Come mai noi creature dovremmo avere in nato un meccanismo di autodifesa che spesso invece si cerca di, come si dice, di giustificare in determinate situazioni anche molto gravi, e quindi appunto giustificare l'aguzzino? Lascio a te la parola. Dunque, io vorrei che il nostro discorso scientifico è un discorso sociale, familiare, molto importante, e certamente ci sono delle regole nella vita, ed io vorrei che voi scrivete, scrivete quello che dico, mettete certe idee per scritte, perché così non dimenticate e così il discorso possiamo approfondirlo di più. Perché il nostro problema dove noi viviamo in questo mondo e praticamente, soprattutto, il più grosso problema è sentimentale, familiare, sessuale. Allora, prima di tutto dobbiamo capire cosa vuol dire il matrimonio, cosa vuol dire il rapporto tra donna e uomo. Io perché faccio sposare mia figlia? Che obiettività c'è? Dormire ce l'ho la casa, dorme in casa mia, lo do da mangiare, lo do da vestire, lo do tutto. Allora si sposa, mio figlio si sposa per il sesso. Allora dobbiamo capire questo. Allora questo sesso, il rapporto sessuale, è molto importante, è la base, è la base della famiglia. E noi stiamo parlando di violenza, violenza verso la femmina, a volte ci sono anche le violenze anche verso il marito, certamente, ma questa violenza, perché come si fa a risolverla? Allora, prima di tutto, come regole naturali, un problema non si può risolverlo se non lo conosci. Allora, prima noi dobbiamo conoscere la nostra fisiologia, dopo si capisce la patologia, cioè noi dobbiamo partire dalla fisiologia, dalla natura, dalle esigenze, dal bisogno, e la patologia dopo si può studiare. C'è molta ignoranza nel rapporto sessuale. C'è tanta gente che non capisce... Guarda come ho mostrato la telecamera. Va bene o c'è qualche problema? Ma no, scusami, sono niente, va tutto bene, io ho problemi. Allora, tanti sposi, nessuno li educa. Cosa vuole la moglie da te? Tu cosa vuoi da lei? Come si fa l'amore? L'ambiente dell'amore? E lo stimolo sessuale? Come si mantiene lo stimolo verso l'orgasmo? Punti negativi del rapporto tra uomo e donna, perché l'amore è una pianta, può crescere e può anche morire. Certamente la pianta ne mette il gasolio e muore. Perciò c'è un rapporto molto importante tra l'uomo e donna. Noi musulmani non possiamo dire alla moglie mamma. Io se dico alla mia moglie madre, mia madre è un divorzio. Sono scesi una pagina del Corano perché uno dei musulmani ha detto a sua moglie sei come mia madre. Allora se il musulmano non può dire alla moglie madre, non può dire assolutamente cretina, stupida, scema, hai fatto del male. Cioè cosa vuol dire? Rispetto. Il rispetto. Perché la moglie, il rapporto tra uomo e donna, il rapporto sessuale, è un rapporto, un segno di Dio. Come tu vedi il mare, montagna, come vedi il cielo, animali, vegetali, è un segno di Dio. Cioè una cosa troppo grande, è troppo forte, è una cosa di Dio. Unire due mondi diversi, due mondi proprio perché ogni uomo è un mondo. Che si uniscono, si diventano uno, un mondo solo. Che questo mondo praticamente durante il rapporto sessuale diventa l'uomo fisico, la mente, invece la moglie è tutta mentale. Cioè diventa un corbo solo. Un corbo solo si sente. Un uno sente l'altro. Questa grandezza di Dio, come io tante volte dico, l'orgasmo ti avvicina al tuo creatore. Conosci il tuo creatore di più. Dici alhamdulillah, perché? Perché hai goduto. Perché noi non dobbiamo dimenticare mai il nostro spirito. Il nostro spirito, cioè questo spirito che è dalla subhanu wa ta'ala, da Dio, che ci dà... Senza spirito non c'è vita. ti fa parlare, lo spirito ti fa conoscere, ti fa digerire, ti fa bisciare, caccare, senza spirito. Ogni attimo siamo in relazione col nostro spirito. Perciò è un dono di Dio l'amore, come i soldi, un dono di Dio. Allora, per avere anche un equilibrio familiare, dato che è un dono di Dio, io devo conoscere chi è il mio creatore. Cioè, Asma'illahil-Husna. Molto importante capire chi è il nostro creatore, As-Sami'a, Al-Kabir, Al-Alim, cioè il misericordioso, tutte andate verso i nomi del nostro creatore. Conoscerlo in profondità. E lì è un primo passo, perché se io non lo conosco, non lo ringrazio, non lo abbrezzo, non lo valuto, e allora se io non valuto il mio creatore, come faccio valutare la sua creatura? Allora, il primo punto, per avere un rapporto familiare, sano, devi avere un rapporto spirituale, sano, continuo, con il nostro creatore. certamente la famiglia è nella società. Se la società malata, piena di ladri, bugiardi, traditori, non ti lasciano neanche far l'amore, non ti lasciano neanche andare in famiglia, perché devi lavorare, perché loro con questa storia del mercato dei valori, ti rubano legalmente. Allora, una delle caratteristiche della donna, non ti dà scusa, cioè non ti vedo, non ci sei, non mi comunichi, devi entrare in casa sorridente, felice, e nonostante quello, cioè la moglie vuole tempo, e la dolcezza, e non arrabbiato, e anche con i soldi, perché una delle caratteristiche femminili, fisiologiche, dico fisiologia, i contrasti, i contrasti, cioè vuole e non vuole, al mattino vuole rosso, alla sera vuole nero, mezzogiorno il bianco, dopo magari il secondo giorno giura che non ha detto nulla. e l'uomo deve capire, deve capire questo cambiamento, soprattutto se c'è il flusso mestruale, se c'è la menopausa, se c'è disturbi con la mamma, con i bambini, cioè un bambino che dà fastidio in famiglia, la moglie, la mamma, è tesa, preoccupata, ha tre figli in una camera, e si sfoga col marito. Il marito deve capire e non rispondere male, anche se è stanco. Allora, la comprensione. Devo capire la moglie e devo capire che è necessario che lei si sfoga e devo capire che è normale, normale che lei mi traumatizza. Una donna che non dà fastidio al marito vuol dire non lo vuole più. È necessario le lamentele e tu, e tu, e tu. Però un uomo con la sua moglie rappresenta, io dico, un esempio come uno sul cavallo. Ha tre possibilità. O cade dal cavallo e colba sua perché la moglie l'ha buttato via, perché non è capace cavalcare. O cammina come vuole lui, il cavallo, vuol dire capace, guidarlo, o lui rimane come un sacco postale e il cavallo fa quello che vuole. Abbiamo tre possibilità, ma tutte le tre possibilità colba del marito. Sempre colba del marito. Perché non ha potuto cavalcare. Perché nel fondo la donna è sottomessa, sottomessa all'uomo, in modo molto particolare. Cioè lei dipendente al marito e vuole comandarlo. Dipendente al marito e vuole comandarlo. Perciò c'è un rapporto molto e molto importante capirlo e curarlo e seguirlo evitare evitare tutti i parassiti o dubbi o tutte le violenze se inizia la violenza inizia il casino familiare dal dubbio, dall'incomprensione. mi sembra dovrebbe sarebbe chissà bodarsi se fossi e dopo certamente noi conosciamo il shaitan le forze negative che abbiamo addosso che ci spingono ci spingono verso i punti negativi e il diavolo e chi lo segue getta la paura quando uno ha paura vuol dire vuol dire sei fallito vuol dire non ragioni allora io rubo la testa dopo che ho rubato la testa ti rubo la tasca allora viene usata la paura a volte in famiglia per sottomettere sia il marito o sia la moglie cioè a volte abbiamo noi dobbiamo vedere la 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 violenza verso la donna di più perché perché l'uomo è superficiale menefreghista materialista non è misericordioso come la donna e dopo si stimola con la vista il suo amore non è dipendente a una donna sola cioè la donna quando ama uno quando fa l'amore con uno non vede un altro non vede un altro invece l'uomo fa l'amore con una e può anche amare un'altra altre due tre perché è superficiale perché non gode anche il suo rapporto sessuale come la donna cioè se l'uomo gode una unità e la donna gode cento unità di più ma perché perché basta che tu ragioni dietro nonostante il flusso mestruale la gravidanza il parto il figlio che viene allattato tutti questi disagi che non dorme se non dorme il figlio e pure continua a fare l'amore cosa vuol dire vuol dire gode molto di più allora è importante capire la fisiologia nostra perché se io non capisco la nostra fisiologia cosa vuole la moglie da me e lei che cosa vuole voglio io da lei se non l'equilibrio nostro fisiologico naturale come Dio raccomanda e vuol dire entriamo nella patologia nella crisi nella violenza perché la violenza è un stato patologico cioè come uno ci sono tanta gente autodistruttiva è una malattia come il dubbio una malattia come l'invidia una malattia è come il bugiardo come il ladro sono malati perché la malattia dell'uomo inizia con l'ingiustizia il dubbio ingiusto la gelosia ingiusta soprattutto se è una gelosia autodistruttiva comunque è molto importante mantenere il rapporto sano evitare punti negativi e avere l'ambiente adatto sessuale perché il sesso ha bisogno del suo ambiente com'è che per mangiare ci vuole l'ambiente adatto uno non fa un pasto buono e va a mangiarlo in gabinetto perciò noi dobbiamo vedere un uomo che ha un alito cattivo che gli edibuzzano che è sporco che non si lava e dopo vuole baciare la moglie mentre ride apre la bocca tutto tutto c'è la spaghettata ancora in bocca la moglie lo rifiuta gli dà fastidio allora la famosa goccia col tempo rompe la roccia quando la moglie per motivi per motivi pratici che il marito si trascura personalmente si comporta in un modo anche anormal non è normale e comincia a litigare voce alta magari o qualsiasi altri problemi e allora c'è una allontananza allontananza della donna e la donna gestisce il marito perché lo conosce bene lo 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 capisce bene perché la donna è misericordiosa e Dio le ha dato la capacità cioè Dio le ha dato la capacità di fare il figlio di partorire di allattare di avere una gravidanza nove mesi tutta questa difficoltà e certamente ci vuole anche la forza la forza di comandare la forza della misericordia la forza della comprensione la forza della pazienza e in effetti nel fondo la donna la moglie forma l'uomo perché l'uomo nasce dalla mamma sottomesso dalla mamma e dopo quando si sposa se è un uomo rimane sottomesso alla moglie perché un uomo sottomesso cosa vuol dire cioè io quando penso il mio cuore sottomesso al fegato no ho il fegato sottomesso alla vescica no è un equilibrio allora quando io dico mia moglie con me è in equilibrio abbiamo un equilibrio non è che uno sottomesso all'altro mi scusi dottor volevo dire una cosa perché se no non riesco a leggere domande lei ha detto prima gestisce il marito la donna vabbè quando vuole farsi gestire e l'uomo di solito se è un uomo è sottomesso alla donna però abbiamo tanti casi in cui l'uomo è sottomesso alla mamma mentre è sposato con la mamma che vive con l'ore abbiamo tanti matrimoni in crisi per questo con la madre del marito che comanda e maltratta la moglie e lui è un maltrattante passivo perché risponde sempre se non ti va bene divorzi e battene mia madre prima di te ma entra nel proprio questo è un problema normale ma tutto come abbiamo l'esempio del cavallo e il cavaliere allora noi nella nostra vita quando abbiamo una scelta due amori io amo mia madre e mia moglie sono litigati tutti e due e il litigio della madre con la moglie con la nuora è normale perché la mamma dice mio figlio la moglie dice mio marito e allora abbiamo un uomo di due proprietà e litigano per forza ma chi mette a posto è l'uomo l'uomo che deve trattare la mamma come mamma e la moglie come moglie dato che le donne hanno dei razzi invisibili cioè la donna per esempio dice al marito ma come mai hai spostato il frigo o il mobile e lei scopre che è stato il comando venuto dalla nonna dalla suocera e così quella lì dice la suocera si mette nella mia casa diventa matta e litigano è tutto normale però anormale quando non ragioniamo noi non ragioniamo chi noi è l'uomo che non ragiona non capisce che la mamma c'è un amore profondo e crede che l'amore della mamma non fa un uomo non fa l'amore con la moglie con la madre fa l'amore con la moglie perciò l'esigenza sua sessuale sentimentale è con la moglie allora io quando devo scegliere la strada devo scegliere quello che ho bisogno perciò anche se sbaglia la moglie mi devo andare in equilibrio con la moglie perché perché ho le mie esigenze perché se non seguo la moglie bene e lei mi tira dei razzi e mi allontana sessualmente cioè la donna per esempio che non vuole fare l'amore non dice al marito non voglio fare l'amore dice ma sai il buzzando ma sei scemo ma tira dei razzi e quello lì si allontana cioè intelligente perché perché lei educa lei ha la capacità di comprensione di espressione perciò l'uomo deve dire quale più importante per me la moglie o la madre ma tutti e due sono importanti ma le esigenze sessuali e la moglie è di più cioè io ho bisogno c'è un bisogno perché il sesso è un istinto perciò se l'uomo intelligente in gamba riesce a mettere a posto le cose ma il problema è che noi dimentichiamo il la sovranotale perché quando tu hai una relazione sana con la sovranotale col Dio vuol dire stai volando chi vola non striscia chi striscia vuol dire litiga dappertutto cioè una moglie che ti ha fatto figli ti fa da mangiare che ti pulisce una donna che ha fatto i figli tre figli per esempio o due figli vuol dire ha dato al marito come minimo dal suo corvo ha dato nove anni tra flusso mestruale fate i calcoli flusso mestruale gravidanza allattamento allora una donna che ti ha dato e tu la tratti male non hai la pazienza non non la curi bene vuol dire non sei uomo non è uomo in effetti il bugiardo non è uomo il ladro non è uomo il bambino che ruba il bambino che fa il bugiardo il bambino che tradisce perciò io se capisco questi inconvenienti dopo abbiamo parlato che il diavolo spinge la suocera e anche spinge la moglie ma sono cose normali però se noi tutti quanti abbiamo un spirito che ci fa volare perché gli uomini o voli o strisci chi striscia fa un casino per niente per una parola crea un problema serio perché scemo strisciante schiavo schiavo al suo piacere perciò secondo me tutto dipende all'uomo che è lui che deve gestire dopo deve capire che quando la donna la moglie ha il flusso mestruale ha un comportamento diverso quando la donna è soddisfatta sessualmente ha un comportamento diverso quando la donna ha bisogno del marito ma il marito non c'è ha un altro comportamento diverso cioè bisogna avere una buona comprensione fisiologica normale io lo so mia moglie gli dà fastidio mangiare l'aglio allora cerco di non mangiare l'aglio ma allora se io mangio l'aglio e allora vuol dire voglio darla fastidio allora lei si allontana e io mi offendo perché si è allontanata e l'uomo quando non fa l'amore gli italiani cosa dicono in bocche parole ciale e balle bene cosa vuol dire balle bene balle bene vuol dire nervoso agitato cazzoso irritabile non sopporta niente maleduca ecco questo vuol dire vuol dire non far l'amore e certamente più che diventa violento a parole si allontana la moglie di più e lui congesto maggiormente e crea altri problemi e così c'è fuoco in casa certamente la società non ti aiuta perché perché la donna ha bisogno del suo ambiente il tempo necessario il suo stimolo e ci vuole il tempo il dialogo e la discussione adatta deve conoscerti un po' di più parlare con te di più cioè non si può fare l'amore lì come un animale devi discutere devi parlare e allora questo tempo non c'è il marito che lavora che non hanno tempo arriva stanco e dorme subito e allora lei non viene stimolata l'ambiente ecco da questa patologie sociali riusciamo avere delle patologie anche a livello familiare perciò molto importante nel matrimonio la sicurezza economica perché sicurezza affettiva d'accordo c'è ma ci vuole per sostenerla sicurezza economica e terzo la giustizia essere giusti cioè cosa vuol dire giusti la moglie non è sovramobile non è quadro da vedere non si non si tratta usa getta la moglie non è sorella non devi trattarla come madre o sorella o la moglie fa parte del tuo equilibrio la lecchi la baci la fai l'amore e fa parte del tuo equilibrio non è una una figlia o una madre e anche non dimenticare la giustizia cioè trattarla in modo giusto capirla comprenderla e non darla fastidio per evitare anche i razzi invisibili devo leggerli alcune cose perché la gente scrive da casa la psicologa dottoressa Nadia Muscialini ha scritto in sostanza il problema è di non riuscire a comunicare non ascoltarsi non parlarsi non cacchirsi e si mette il muso e aumenta la tensione e poi la violenza un caro saluto al dottore e anche la sorella Dina se può mettermelo in sovrappressione Domenico leggo prima Dina ha scritto un'affermazione ma non lo vedo aspettiamo che lo metta ecco ma i casi di violenza di cui si parla vanno bene oltre tutto questo questo è il commento di Dina e poi dottor le volevo chiedere che me l'hanno anche chiesto da casa quindi una persona che è stata vittima per anni di abusi psicofisici o anche soggetta a stress psicologico continuo e costante per anni e anni per lei è possibile o lui uomo o donna riprendersi in mano la stabilità psico emotiva una volta usciti dall'abuso o ci sono delle conseguenze irreversibili allora la violenza è una patologia la patologia nasce dall'ingiustizia qualsiasi azione ingiusta crea una malattia certamente se io bevo il veleno mi ammazzo subito se sparo ammazzo subito ma se fumo mi drogo mangio male allora voglio ammazzarmi a pezzi perciò uno dice non voglio più ragionare non voglio amare cioè si ammazza a pezzi perciò questa violenza abbiamo detto che l'origine è l'ingiustizia che azioni ingiuste sia da parte della donna o da parte dell'uomo non è importante ma perché questa violenza secondo me la violenza nasce in famiglia dall'ignoranza cioè quando uno sposa una non è al suo livello cioè il livello sociale è molto importante ci sono gente per esempio nati in un ambiente il maltrattamento della donna è normale e anche la donna subisce il maltrattamento perché lei vuole l'uomo che li tratta in modo duro allora bisogna vedere che base abbiamo naturale di sociale che livello culturale anche perché una studiato non è come una non ha studiato una di fede non come una senza fede una di fede si combotta ma insomma vedere l'equilibrio tra tutti i due ma la violenza è inaccettabile e tutto quello noi vediamo i nostri paesi l'Iraq rovinato la Siria rovinata l'Egitto perché perché alla fine non esiste una famiglia giusta tutti si litigano valiamo la realtà e questo non va bene perché perché la famiglia è la cellula della società quando io tratto male mia moglie e mia figlia ingiustamente faccio dittatore in famiglia tiro insomma violento picchio cosa vuol dire vuol dire la società e Dio li manda chi li manda li manda un ingiusto che sistema la situazione se gli iracheni hanno sistemato il loro dittatore non venivano gli americani e così i siriani perciò il problema in famiglia è molto serio io se voglio risanare in Siria devo risanare la famiglia perché finché che vivo in una famiglia di brebotenza di violenza di ignoranza di dittatura di anormale vuol dire non posso avere un governo normale perciò la violenza in famiglia noi come musulmani non esiste non deve venire certamente una subisce il danno di anni di violenza perché ce l'ha ha sposato uno ignorante o le cose non vanno bene ma perché non lo lascia non lo lascia perché la società non permette non può lasciarlo perché oggigiorno se una donna lascia il marito io parlo di vita pratica sia ora italiani o musulmani una donna che ha lasciato il marito con tre figli se fa la buttana va bene se fa l'esbica questo è top della società ha lasciato il marito per un'altra amante ma se prende un matrimonio come seconda moglie e no fa incazzare tutti perciò noi vogliamo viviamo una società dove che la legge ti imbone la tua sofferenza tu devi continuare a soffrire nella violenza uscita dalla violenza di un marito vai nella violenza di una società che non ha misericordia questa vita pratica però se va a sposare uno che che ha la possibilità di tenerla come seconda moglie e tutti si incazzano perciò subisce il danno perché perché non sa dove andare il papà non c'è il fratello e c'ha la moglie che non lo accetta non viene aiutata e dice dove c'è per forza devo stare con questo stronzo per tutta la vita certamente quando diventano i suoi figli grandi lei diventa il brebotente e usa il figlio i figli per trattare male il papà per vendicarsi ma questa non è in famiglia sana ecco da questa famiglia malata esce un governo malato se noi vogliamo cioè se noi vogliamo un governo sano dobbiamo avere una famiglia sana se vogliamo un governo giusto vogliamo vuol dire pretendiamo una famiglia una famiglia equilibrata sana giusta e viceversa viceversa cosa vuol dire se io voglio distruggere la società inizio dalla famiglia omosessuali non c'è matrimonio non c'è soldi che mantengono l'amore si lavora troppo ecco rombo la famiglia in un altro modo perciò a noi cosa ci vuole ragionare riflettere avere una testa una testa delle idee sicure stabili certezze non avere delle testa mi sembra dovrebbe sarebbe giulosie stupide incomprensioni vendette cioè uno vendica con il marito con la moglie vendica la vendetta in famiglia cioè questi scemi delinquenti delinquenti di base vuol dire malati da curare cioè una persona ti dà una caramella lo dici grazie ma una donna che ti fa i figli e la tratti male perché fai l'uomo allora questo non è uomo tutto molto chiaro devo leggerti delle domande se no non ce la facciamo chiedo a Domenico di mettermi la domanda di Giuseppe Sardo poi quella di Pasqua prima adesso ti leggo la domanda di Giuseppe se me la mette in sopra pressione che l'ho vista prima aspettiamo che ce la mette Domenico ecco d'accordo sul fatto che lo spirito è essenziale nel rapporto di coppia ma che ne pensa della sessualità intesa come un rapporto tra pari perché parlare di sottomissione l'uno all'altro tra pari se complementari non sottomessi che ne pensa ma ho detto il fegato non sottomesso al cuore l'equilibrio non è sottomissione cioè io senza fegato non posso vivere il cuore senza vescica non vive perché l'uomo è fatto a organi messi insieme come con bosè e ogni organo ha la sua funzionalità e ogni organo in equilibrio con la sua funzionalità con con un scopo una funzionalità unica e così la famiglia e così la società cioè io ho tribunale ma non c'è un governo una nazione solo tribunale ci vuole tribunale ci vuole la comunicazione ci vuole l'ingegnere ci vuole il medico e la comunità la nazione è come anche il corvo perciò io quando sono dipendente al falename o al bannettiere ho bisogno di lui io ho bisogno del bannettiere ho bisogno dell'idraulico ma non vuol dire sono sottomesso e Dio ha creato questo equilibrio e questa armonia per mantenerla ci vuole una lotta come hanno fatto il mercato dei scemi nessuno compra vende il mercato degli intelligenti nessuno compra vende l'hanno meschiati comincia il commercio perciò il rapporto tra di noi cosa vuol dire liabina al khabiz am not cioè cosa fai come fai in che modo fai vieni giudicata e registrato cioè il Dio ti dà la vita e ti dà la morte e durante questa vita ti dà tutte le possibilità il cibo l'acqua il fuoco tutto ti le dà e tu devi comportarti bene per comportarti bene allora devi seguire il Corano allora c'è delle regole allora se io queste regole non li rispetto vuol dire faccio del male dell'ingiustizia e così dall'ingiustizia nasce la malattia per quanto riguarda l'omosessualità cioè e Dio ci ha creato ci ha creato una donna seno vagina utero fai il figlio chi sceglie la merda vuol dire ha dei problemi cioè il sedere è un stimolo per l'uomo ma non deve entrare nella merda dopo la deviazione quando tu ti trovi una donna che prende dieci anni di pillola il primo parto che lo fa esce uno più femmina che maschio ma è normale ma però non ha la vagina ha i testicoli ma il comportamento che ce l'ha dato che è uscito da una donna piena di squilibrio ormonale ma sono cose fisiologiche normali ma vengono curati però che gente che mi dice la merda meglio che una donna ma per me per me anti uomo anti umanità inutile non abbiamo più il coraggio siamo arrivati a un certo punto viviamo in Italia che tu è diventato chi tossisce pericoloso chi starnutisce un delinquente ma perché abbiamo messo in testa della spazzatura l'uomo ha paura dell'aria ma senza aria uno muore allora noi in questa società abbiamo bisogno il coraggio di dire la verità il coraggio di dire al falso sei falso il coraggio di dire al facebook che ha tolto una realtà che ha tolto una giustizia vuol dire collabori con l'ingiusto perché se noi siamo zitti zitti certi problemi in Italia ora io li vedo erano in Siria 70 anni fa paura e dopo la paura rubare fregare uccidere emigrare 12 milioni emigranti se questi emigranti hanno aggiustato i loro problemi 70 anni fa non lasciano la casa non viene distrutta la casa perciò noi viviamo in una vita devi mantenere il tuo equilibrio Dio ti ha dato una donna questa donna fa l'amore ti bulisce tiene la casa vuol dire 7000 euro al mese parliamo di chiaro e tu la tratti male sei scemo la donna la stessa cosa inutile fare tante storie la donna se vuole fa lecare il marito il piede tutti i giorni e lui contento dipende come lo tratta perciò noi dobbiamo volare non strisciare volare vuol dire usare il cervello vuol dire tutte le idee stupide ingiuste cretine buttarle via perché l'incendio si inizia con una scintilla con un soffio si spegne ma se tu la lasci questa scintilla brucia tutto l'albergo perciò non perdere la testa chi perde la testa un animale quando uno animale vuol dire vuol dire deve lasciare la moglie deve lasciarlo cosa sta a soffrire Dio non vuole che tu soffri però il problema la boligamia la boligamia e la terapia quando una donna maltrattata in modo violento se sa che c'è un altro che la dà una famiglia la tratta come moglie non come una prostituta o usagetta lei lascia il marito violento perché il violento è malato pazzo è che sono costretto a stare con pazzi Dio non vuole la nostra sofferenza perciò il problema della violenza nel fondo secondo me la società che non dà la possibilità alla donna violentata di vivere in pace ecco qui anche il progetto Aisha che praticamente danno a queste donne che soffrono per anni un po' di ossigeno un po' di serenità in effetti voi siete meglio di tutte le moschee che abbiamo in Italia perché perché voi fate del bene perché risolvete i problemi perché aiutate chi soffre noi sappiamo e Dio ha messo una 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 donna malfacente insomma una donna non è troppo credente o non è di fede l'ha dato il paradiso perché ha dato davvero a un cane che ha sete far del bene in questa società è il top della fede costringere la gente alla fede o aggredire tenere il prossimo come un schiavo come un un servente è l'ingiustizia più enorme perché noi siamo creati liberi e Dio ha detto credi come vuoi fai quello che vuoi ma sei responsabile per quello che stai facendo adesso le leggo un po' di commenti di domande allora la dottoressa Nadia Muscini ha scritto io credo che abbia ragione il dottore in famiglia nella società la violenza nasce perché invece di cercare di capirsi si vuole avere ragione poi c'è anche chi è contrario a tutto quello che ha detto non sono d'accordo se mi può mettere non sono d'accordo perché è importante perché quello che lei dice è un cliché che la donna non ha bisogno di un difensore d'ufficio come non ha capito la donna non ha bisogno di un difensore d'ufficio adesso non so se Domenico riesce a trovare il commento io non riesco a scendere a guardare altri commenti scusami posso? le leggo un altro commento anche Antonia Long ha detto che non condivide nulla si sente umiliata da questo dottore secondo lui la donna può lavorare ecco qua De Samad ha detto nessuno ha il diritto di essere difensore d'ufficio della donna e saluti allora il rapporto tra uomo donna è molto intimo ma che difensore d'ufficio il rapporto intimo il rapporto tra uomo donna è un rapporto sessuale che diventa troppo intimo in effetti dall'atto come fede il giudice non ha il diritto di dire perché lasci la moglie o perché hai lasciato il marito perché così dà possibilità a fare un altro matrimonio perciò non è il problema di aiutare una insofferenza vuol dire un dovere perché raccomandare il bene condannare il male è una cosa di base musulmana molto importante raccomandare bene allora se io ho un progetto aiuto il prossimo aiuto chi soffre questa è un'azione negativa allora abbiamo problemi di incomprensione l'incomprensione vuol dire un'azione ingiusta perché se ti capisco male ti tratto male ti tratto male vuol dire c'è distacco c'è tanafor c'è disgregazione perciò è molto importante capire la realtà e io chi ha questi problemi che capisce male deve ritornare al corano il corano ti apre ti apre la testa il corano ti fa sviluppare ti voli capisci la realtà perciò ci vuole una terapia altro allora le leggo tre domande la dottoressa Chiara Sebastiani dice salam dottore ma se in famiglia lavorano tutti e due e quanti uomini sono disposti a farsi carico di una donna divorziata con bambini poi le leggo l'altra domanda se no perché ne stanno arrivando tante la sorella Hanan Ajar assalamu alaikum chiede al dottore dato che è psichiatra no non è psichiatra è neuropsichiatra se non sbaglio perché non pensa che il maschio che usa violenza fisica e verbale sulla donna abbia delle difficoltà psicocomportamentali se non una patologia neurologica perché non agire sulla rieducazione di questi uomini violenti piuttosto che considerare la donna scappa al primo schiaffo scusate che non riesca a vedere certo la donna si deve tutelare fino da subito allora quando il marito malato si curi l'importante è che la famiglia il rapporto tra uomo e donna non creano bambini delinquenti bambini già complessati da piccoli perché quando un bambino vede urli in casa schiaffi in casa non esce un bambino sereno tranquillo allora la famiglia produce figli non produce animali produce figli noi in Siria in Aleppo quando vedono un bambino bravo dicono ma chi è la mamma in Aleppo quando vedono un bambino delinquente dicono ma chi è la mamma attenzione quando io l'ho detto la famiglia vive nella società lo squilibrio sociale dà fastidio alla famiglia la donna perché lavora lavora perché la società vuole che la donna lavora perché quando dopo la rivoluzione meccanica la società ha bisogno di mano d'opera è entrato il femminismo per farla lavorare ma una donna che fa la gravidanza l'allattamento e tenerla a casa educare i figli seguire il marito e deve anche lavorare 8 ore e dare soldi al marito è ingiusto questa ingiustizia subisce dei danni alla famiglia perciò costringere la moglie che lavora fa parte di un squilibrio se lei lavora deve tenere i soldi in tasca sua non metterla in famiglia perché la sicurezza economica li dà il marito perché la donna ha dato già come abbiamo fatto l'esempio ragionate ragazzi cioè dobbiamo ragionare cioè una donna che fa tre fili vuol dire al marito ha dato dalla sua sofferenza fisica nove anni flusso mestruale in esatto il flusso mestruale a 12 anni fino a 22 anni vuol dire abbassato tre anni di flusso mestruale continuo cosa vuol dire mal di testa mal di bancia e mal di schiena e stai a letto e nervosa questo ha dato al marito dopo la gravidanza l'allattamento vuol dire tutto questo ha dato il marito cosa deve dare deve dare sicurezza economica perciò io quando do i miei soldi alla moglie ha il suo diritto non è mosina e se la mia moglie va a lavorare guadagna mille euro i suoi soldi sono suoi non sono miei della famiglia in effetti se la donna ricca il marito bovero può dare al marito zakat ma se la donna bovera il marito ricco non dà alla moglie zakat allora dobbiamo capire la fisiologia io dall'inizio l'ho detto se noi non capiamo la nostra fisiologia la patologia non possiamo né capirla né risolvere i problemi patologici allora una donna che fa sacrifici enormi fisicamente lavora fuori eppure dà soldi al marito è ingiusto non va bene è ingiusto cosa vuol dire crea dei problemi come noi vediamo in italia io ho pazienti quattro mariti quattro figli diversi e lei da sola ha bisogno di un euro questo cosa vuol dire ingiusto non va bene ingiusto cosa vuol dire vuol dire malattie vuol dire sofferenza vuol dire guerra vuol dire distacco noi finché viviamo tra ignoranti scemi ingiusti che credono chi tossisce un delinquente vuol dire viviamo tra troppi bugiardi troppi ladri vuol dire soffri escono figli in sofferenza allora vabbè professoressa Chiara Sebastiana aveva appunto chiesto quanti uomini sono disposti a farsi carico di una donna divorziata con bambini e poi le ha detto ci sono donne che amano il loro lavoro lo fanno perché lo amano e sono anche madri poi Antonia Longo ha scritto siamo tornati al medioevo e vabbè c'è qualcuno che crede che è mercato delle valute cioè tutti i giorni noi vediamo il tv ti dice mercato delle valute cosa vuol dire mercato delle valute chi valuta viene valutato cioè noi valutiamo l'acqua con il litro o il litro si valuta l'acqua c'è gente che crede che i sommari volano e vabbè scelta non c'è nessun problema se noi consideriamo l'equilibrio è una cosa di medioevo non c'è nessun problema però l'importante azioni positive azioni giuste dopo uno in uno faccia quello che vuole purtroppo noi con le regole di dire mercato delle valute cosa vuol dire i soldi non sono merci quando io dico i soldi sono merci vuol dire dico i sommari che volano e noi viviamo in un mondo che crede e che applica i soldi sono merci un mondo fallito e disorganizzato è ben chiaro va bene chiaro sì massimo max conte ha scritto sono d'accordo con lei caro professore bisogna incoraggiare la donna a dedicarsi alla famiglia al lavoro domestico io dottor Baha Mohamed le volevo chiedere un appello per il progetto indipendentemente la campagna di raccolta fondi che conosce benissimo investe sul suo futuro se vuole fare un appello che cosa ne pensa abbiamo raccolto siamo riusciti oggi a raccogliere 12.000 euro quindi le donne che beneficeranno di questo progetto saranno 10 inshallah le leggo intanto un attimo una cosa Yasmina ha scritto Salami buonasera a tutti sono d'accordo sul fatto che il rapporto tra coniugi sia intimo e che il loro legame sessuale sia la base dell'intero rapporto idealmente tutti vorremmo l'amante perfetto col quale vivere una vita da sogno ma non sempre ma non sempre è così per problematiche interne o ecco guarda scusate ma perché quando continuano a scrivere non riesco più a leggere ecco problematiche interne oppressioni esterne spesso si passa dall'equilibrio sperato e da volte non si tratta solo di disarmonia ma si passa ad una vera e propria violenza a questo punto credo che il problema del rapporto sessuale tra I poi non riesca a leggere perché io vedo tra I non lo so non si vede nient'altro non viene tutto in sovrapprensione purtroppo vabbè tra i coniugi sarà comunque Nadia Minto ha scritto a Salam Alec se il marito non mantiene la sua sposa ma mantiene la sua famiglia di origine questo è un problema che succede spesso che mandano i soldi dal loro paese di origine alla famiglia ma non mantiene la moglie qua cioè ho delle donne che sono senza denti non le mandano dal dentista questa donna come si dovrebbe comportare questo uomo non vuole andarsene lasciarla che si rifaccia una vita cosa deve fare? allora nella vita mia pratica ho visto tanta gente hanno fatto pronto mi senti? va bene? mi sentite? sì sì ti sentiamo allora ci sono tanti vivono a Milano ma con la testa nel Medio Oriente e questo vuol dire c'è un squilibrio perché il Corano dice li yaskuna ilaiha li yaskuna ilaiha cioè vuol dire il matrimonio c'è sicurezza c'è affetto c'è contatto cioè non è il matrimonio quando io metto la firma e la sposa va in America io va in Sud Africa e che matrimonio è? essere vicini l'equilibrio familiare è molto importante li yaskuna ilaiha vuol dire dovete stare vicini quando io favorisco la mia famiglia di origine è un problema di ragionamento sbagliato ma sbagliato perché? perché ha delle idee sbagliate e ritorniamo al discorso io ho avuto gente morta a Milano ma la loro villa l'hanno fatta al Cairo e va bene cosa facciamo? facciamo cioè bisogna usare il cervello usare il cervello con programmare progettare guarda la gente che hanno fatto una vita bella hanno usato il cervello anche c'è gente hanno fatto una brutta vita perché hanno usato il cervello in modo sbagliato hanno capito l'inverso e perciò io direi la prima giustizia e ingiustizia nasce dentro di noi quando io non valuto cioè ce l'hai il figlio e abbrezzi la mamma vuol dire ho dei problemi e se la mamma ha bisogno e allora io devo organizzarmi in un modo che in un modo giusto in poche parole perché la giustizia vuol dire pace la pace è legata alla giustizia se io non sono giusto con me stesso mi ammalo se non sono giusto in famiglia disturbo la famiglia se non sono ingiusto in società la gente perché va in galera perché si comporta in modo ingiusto l'ingiusto è assassino della società l'assassino della società il ladro il bugiardo l'ingiusti perciò la giustizia è la base nostra questa giustizia uno dice e io per me è giusto per te non è giusto la legge di Dio chiara tutto ti dice di tutto ti rende la vita facile divertente e meravigliosa e di buona salute però dobbiamo ritornare al Corano perché il Corano è la parola di Dio l'Islam è l'ultima ha completato tutte le altre religioni il musulmano crede nel cristiano negli ebrei perché perché lo stesso Dio abbiamo e la stessa regola perciò non mi raccomando non fare azioni ingiuste ti ringrazio ti stavo chiedendo prima appunto un appello per la campagna indipendente per quanto riguarda prima di tutto grazie a Dio che c'è il progetto Aisha il progetto Aisha cosa vuol dire vuol dire non so io per dare aiuto a una donna in sofferenza o per salvare una famiglia dalla sofferenza salvare famiglia dalla sofferenza cosa vuol dire vuol dire escono due figli sani non delinquenti perché il figlio mi segui il figlio drogato perché drogato perché cresciuto male cresciuto in un ambiente ingiusto di sofferenza allora molto importante salvare la famiglia i figli e la nostra cellula sociale dalla sofferenza dell'ingiustizia certamente quando tu fai una cosa giusta non tutti sono contenti perché l'ingiusto il diavolo mai contento da uno che fa del bene anzi il diavolo e i diavoli perché i diavoli come uomini sono meglio che il diavolo è vero perché sono i serventi tu dici però non scappa perciò noi quando vediamo un'azione buona nella nostra società io non posso fare il progetto Aisha però perché non posso non sono capace non ho tempo non è lontano allora posso darlo una mano noi diciamo come uno che cammina vede un annegato non riesce non sa nuotare non sa come 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 salvarlo allora comincia a urlare c'è un annegato capito cioè dobbiamo per forza aiutare tutte le persone che vogliano risanare la società è un'azione obbligatoria verso questa società cioè noi siamo venuti qui per risanare la società dalla malavita noi come musulmani non accettiamo il fumo non accettiamo la droga non accettiamo divorzi non accettiamo la violenza non accettiamo eppure ci troviamo come in una osteria tutti ubriachi e noi non beviamo e tutti ce l'hanno con noi perché non beviamo e tutti hanno bisogno di noi questa società ha problemi di economici cioè il ladro è diventato legale allora ti rubano i soldi e ti tolgono la moglie dalla casa cioè vuol dire non fai l'amore e con il tuo il tuo denaro hai avere ma non potere perché la banca non ti dà tutti i soldi che ce l'hai addirittura adesso gli imbiegati della banca ti dicono ma cosa te ne fai 2000 euro e devi prenotare cioè vuol dire io ho un milione ma non posso gestirlo allora aiutare questi quel progetto Aisha secondo me è un dovere umano un dovere umano sia per musulmani cristiani per tutta la gente che vuole risanare questa società cioè risanare la famiglia noi non vogliamo dire io aiuto chi chi aboggia la moglie che vuole scabbare dal marito no assolutamente noi aiutiamo la famiglia in sofferenza non vogliamo figli che escono deviati alterati la nostra società ha bisogno di uomini veri non di coglioni in poche parole perciò io per il progetto Aisha stimolo tutti di aiutarlo per quello che vuole fare e io già da adesso posso darvi 1000 euro siete contenti sono rimasta senza parole tutto progetto Aisha ti ringrazio veramente ringrazio il nome di progetto Aisha perché posso immaginare in diretta così ti ringrazio guarda noi musulmani quando io una volta una povera l'ho dato soldi mi ha detto grazie ti ringrazio il Dio ringrazio il Dio che ho preso i tuoi soldi cioè noi aiutare chi ha bisogno è un dovere è un diritto chi non lo fa e vuol dire è un violento cioè se io vedo per la strada vedo uno che ha bisogno e faccio finta di niente sono violento violento io violento me stesso cioè chi fa del bene vuol dire semina del bene vuol dire guadagna guadagna lui non è che guadagna Dio ti dà se tu dai ma non siamo come quelli che dicono che Dio ha bisogno di noi quello che dice che Dio ha bisogno di noi quelli che dicono Dio ha bisogno di sostenitori Dio ha bisogno dei rappresentanti e hanno dei problemi molto seri ma problemi di comprensione perché se io dico Dio ha bisogno di uno che lo sostiene in terra o lo dà una mano vuol dire questo uomo più grande del creatore ma il creatore chi è? quello che ha creato cielo, mare, montagna allora ho dei problemi molto seri perché questo uomo mangiava caccava e anche morto perciò noi il primo valore è il nostro creatore perciò io vi abboggio vi abboggio sempre sono contento e speriamo che ci vediamo nel paradiso inshallah Rosanna Fatima Recce ti faccio una cena ti faccio una cena nel paradiso però perché qui non c'è tempo non c'è tempo lei lavora sempre dalla mattina alla sera Rosanna Fatima Recce le ha scritto fantastico dottore parla senza peli sulla lingua però devo leggerle un commento di Massimo Campanile perché mi aveva scritti altri non li ho letti per par condicio fratello molti non approfondiscono nella conoscenza del Corano perché non parli con la parola di Dio sorella deve riferire di un argomento passa ad uno ad un altro e non dà soluzione questo è l'opinione di Massimo Campanile non dà soluzione ha scritto così e vabbè esempio pratico cioè ha scritto va bene ma esempio pratico abbiamo parlato tutto di soluzioni cioè quando io dico non essere violenti cioè tutto soluzioni abbiamo parlato di via terapeutica più di di patologia vuol dire deve stare un po' attento perché la scienza la scienza come uno che versa l'acqua se io verso l'acqua e uno non ha bicchieri dove deve verso l'acqua allora deve portare il bicchiere e essere ma con la mano stabile e lo verso l'acqua la scienza è un dono di Dio se uno ha la testa sporca e non imbara noi con questa esperienza del covid abbiamo imparato molte molte cose molto importanti cioè una società che teme che ha paura è una cosa una cosa hanno gettato la paura la gente la gente ha paura chi ha paura verde la testa chi verde la testa verde la tasca ci sei? chiedo scusa ma ci sono dei continuano vi chiedo per favore voi mi chiamate sul cellulare perché ho dei problemi così chiedo scusa oggi ho dovuto farlo dal cellulare chiedo scusa mi sente dottor Baha? si dimmi caro adesso sento niente le hanno fatto alcuni dei complimenti altri no lo sappiamo Rosanna Fatima recce per concludere perché ormai siamo in chiusura io non vedo bene tutto quello che avviene all'interno di una relazione è responsabilità di entrambi i parenti al 50% ciascuno in caso contrario ci si trova di fronte a una coppia basata una proiezione comunque che Dio ti benedica a nome di tutto il progetto Asha ti ringraziamo per il tempo che ci hai dato perché lo sappiamo che lavori 24 ore su 24 in tutta Italia e ancora grazie per la donazione che ci hai fatto in diretta e all'altro benedica e se vuoi dire qualcos'altro per chiudere perché siamo in chiusura ti lascio io quello che l'ultima raccomandazione non dimenticare Allah subhanahu wa ta'ala Asma'Allah al-Husna studiate chi è l'Ahad chi è il misericordioso ecco il nostro creatore approfondite noi scientificamente dobbiamo parlare a chi non crede scientificamente farlo capire che c'è un creatore ecco molto importante prima di tutto il tuo rapporto spirituale vuol dire stai volando e più che voli e più che vedi più che sei forte e nessuno ti tocca perché alla fine tutto nelle mani della subhanahu wa ta'ala c'è una mancanza enorme la gente crede nell'islam ma rimane la la loro credenza in testa non scende nel corpo un musulmano non tratta mai male sua moglie mai ma quando io sono musulmano faccio di tutto con la barba fino al ginocchio ma però mia moglie la mando in oriente perché il bambino non dico che perché mi rompe o non voglio vederla o il bambino e i bambini devono parlare l'arabo ma Dio ti dice li devi stare vicino a te allora Dio ti dice stai vicino e tu dici no tu vai vuol dire hai fatto una ingiustizia vuol dire nulla la luce di Dio lo hai lo hai evitata non vuoi ecco l'islam è pratico non è teorico perciò dobbiamo non dimenticare la in ogni attimo e così manteniamo la famiglia sana ma un marito o una donna malata come fate nella famiglia sana è malata curatevi perciò dovete capire le cose a modo giuste e combattere contro tre nostri problemi in tutto il mondo non dico solo qui tre bugiardi ladri traditori a tutti i livelli dall'idraulico fino al capo di stato mai tradire io sopporto tutti i svali degli uomini e li perdono e per me sempre cancello lo loro sbaglio ma non cancello la loro personalità ma ce l'ho veramente non sopporto non cancello lo sbaglio del traditore e il bugiardo e anche il ladro e purtroppo noi siamo viviamo in un ambiente che questi bugiardi hanno una rete una rete diventati si aiutano tra di loro c'è il giornalista c'è il politico c'è praticamente se rimaniamo così c'è un'autodistruzione perché ricordiamo sempre il creatore è lui maalik al mulk fa quello che vuole è lui il proprietario di tutto perciò finché che c'è lotta tra giusto e ingiusto va benissimo ma quando domina l'ingiusto interviene l'asso parotale perché è la sua proprietà vi ringrazio a tutti sono contento sono sempre sotto le vostre disposizioni perché fate del bene e io vivo vivo per fare del bene guarda dico veramente le visite che li faccio gratis mi rendono molto più contento e mi danno più fastidio perché quello che non baga diventa pesante perché tanto non bagano perciò mi danno fastidio ma mi rende contento alhamdulillah alhamdulillah buon proseguimento di serata ricordo a tutti che ci vediamo domani sempre alle 7 con l'avvocato penalista Alessia Sorgato e il titolo è giù le mani dalle donne e vi ricordo che ormai sono rimaste 24 ore e finirà la campagna investito sul futuro domani è l'ultimo giorno fratello ha scritto il fratello Massimo Campanile cosa deve fare per contattarti in privato e chiama il telefono il suo numero è sulla sua pagina giusto 3 3 3 5 6 5 8 4 2 4 0 forse lo devi ripetere perché aveva preso la penna adesso 3 3 5 6 5 8 4 2 4 0 però devi avere pazienza mi chiama dopo non rispondo dopo 10 minuti chiama non subito finché che rispondo si ci immaginiamo che sarà tempestato di chiamate messaggi è normale soprattutto in questi tempi dove che la sanità è un po' un po' un po' particolare insomma lo sapete voi quando io dico chi starnutisce che il starnuto è una cosa normale ormai per la strada in tutta l'Italia non trovi uno starnuto perché diventa un delinquente proprio è una cosa hanno capito la paura starnutire anche dentro la mascherina quando si fa la spesa insomma eppure il starnuto è un dono di Dio cioè butti fuori il catarro necessario cioè una cosa l'ingiustizia cresce come cresce la giustizia cioè se l'ingiusto cammina cresce anche il giusto cammina cresce però devi lavorare cioè voi fate salvate la famiglia ma c'è quello che distrugge la famiglia il drogato e chi spinge i ragazzi a bere l'alcol birra e giochi vari perciò tu costruisci c'è anche quello che distrugge è normale la lotta ma è normale essere animali cioè non usare cervello perché Dio ha dato cervello a noi cervello una persona che capisce cosa mangia come lavora come guadagna e non capisce chi ha creato sole e il mare è per te perché quando è morta te non c'è più né mare né sole vuol dire proprio chi non crede come si deve nel nostro creatore chi non conosce il nostro creatore è una vesca anzi la vesca è meglio di lui cioè il cane è meglio perché il cane è più positivo perché quello è negativo giusto dottor Baha ci può dare degli orari indicativi per chiamarla che orari ha giorno e notte giorno e notte ecco hanno chiesto la domanda ti pentirai di questa cosa perché sarai tempestato ma non è un problema perché vabbè se mi chiama a mezzanotte alle 3 di notte per dirmi cosa mangio domani e no ma se ha problemi d'accordo per le urgenze va bene ti ringraziamo ancora ti ringrazio ancora a nome di tutto il progetto Aisha per la cospita donazione che hai fatto in diretta quando avete bisogno sono vicino i soldi non contano i soldi non fanno uomini l'uomo fa i soldi ricordatevi noi non abbiamo bisogno di soldi abbiamo bisogno di uomini eh sì perché tu conosci via volta ma non vedi via di un delinquente marconi marconi i nomi la gente che ha fatto bene all'umanità sono ancora nella storia e nei ricordi ma uno che ha rubato che è falso che è bugiardo che è ammazzato è andato come come le tame è andato via non c'è più e un sono sono finiti senza senza voce senza perché perché alla fine ricordate il nostro creatore lui che fa quello che vuole da quello che vuole ma da a quello che merita cioè se tu vuoi vuoi essere illuminata lui ti dà la luna ma se uno rimane ubriaco e dice spero che Dio mi illumina e tu sei ubriaco che Dio ti illumina la cosa perciò non perdere il buon senso la saggezza abbiamo bisogno di uomini è la donna che fa l'uomo l'uomo non fa la donna cioè l'uomo non fa l'uomo perché chi educa come abbiamo detto all'inizio è la mamma è la mamma che educa la mamma che dice dice c'era nella nostra storia dei musulmani uno cammina cammina per la strada dice questo bambino diventa l'amiro del suo popolo ha sentito la sua madre l'ha detto se non è così meglio che muoia cioè la mamma che fa l'uomo e noi non abbiamo più uomini che voi come donne in Italia sapete che non ci sono uomini ma perché non ci sono uomini perché la mamma non fa più l'uomo perché non lo vede lo mette nell'asilo abbenanato lo sveglia alle 5 di notte perché deve andare dalla nonna l'uomo oggigiorno i nostri figli non crescono in modo giusto equilibrato non escono con amore è un problema molto serio questo e dopo nonostante l'influenza l'aggressione sociale ti dice vai a lavorare ma un uomo che costringe costringe dico la donna se vuole lavorare vado a lavorare ma che costringe sua moglie a andare a lavorare con la gravidanza con i figli cosa ti esce un figlio drogato per di tutta la vita e per lui perché troviamo figli che amassano il padre e la mamma è drogato alcolizzato è una realtà chi semina grano non raccoglie orzo va bene? va benissimo Gesacca la okera e grazie bell'occasione siete in gamba e dovete crescere con stabilità sicurezza e non dovete avere paura chi teme Dio non teme nulla Gesacca Massimo Campanile troverà nel progetto ha scritto il numero nei commenti adesso lo scriveremo giusto Gesacca la okera ancora a prestissimo bec a presto o a presto Buon proseguimento che ci sarà.